Buon pomeriggio a tutti, grazie per essere venuti. Proponiamo un velo in musica, che è questo musical che abbiamo adattato dal musical Sister Act. Tutti gli attori, i cantanti, i ballerini non sono professionisti, quindi spendono pause e pranzo durante il lavoro a provare insieme per portare in scena questo musical. Ovviamente siamo supportati da arte e danza a lecco, dove invece vedremo delle ballerine professioniste. E questo è il nostro terzo musical che portiamo in scena. Purtroppo per il Covid siamo rimasti fermi per circa due anni. Siamo molto lieti di riprendere invece quest'anno e di proporre qui a Lecco questo nostro musical. Un'iniziativa dietro la quale sta un progetto molto importante. Noi siamo quasi tutti dipendenti dell'Istituto Neurologico Besta e abbiamo messo insieme questo spettacolo, come altri in precedenza, per raccogliere fondi per i reparti di radiologia e radioterapia. Il fatto che abbiamo scelto questi reparti questa volta è legato al ricordo della dottoressa Milanesi, Ida, che faceva parte del nostro gruppo e che abbiamo perso tragicamente alcuni anni fa. I fondi raccolti con lo spettacolo verranno dedicati alla costruzione di una stanza per i bambini che devono subire una risonanza magnetica dell'encefalo e in quanto piccoli devono essere sedati in precedenza. Quindi verrà creato un ambiente apposito in radiologia dedicato a loro, con stanze affrescate, con personaggi dei cartoni animati, dove loro si possano rilassare prima di effettuare questo esame. Oh my god, oh my god, I got enough you can do because I'm stuck right through to my god.